Ciao a tutti, oggi vorrei parlare di manipolazione e violenza psicologica in modo un po' diverso. Infatti questo video è condiviso nella seconda parte con Chiara Alfano, un'avvocatessa che lavora nel sud Italia, ma soprattutto una persona che conosce le dinamiche di manipolazione e violenza psicologica e col suo apporto professionale sostiene noi della parte legale, sostiene tutte le vittime e uno degli avvocati dell'associazione Io Scelgo Me di cui io sono vicepresidente e in caso di necessità tutte le persone che io sostengo molte volte vengono indirizzate ovviamente a Chiara. Sappiamo che la manipolazione psicologica è un tipo di influenza emotiva che ha lo scopo di cambiare la percezione delle altre persone usando dei metodi sporchi, illusori e a volte può sfociare addirittura nell'abuso psicologico e nella violenza fisica. L'obiettivo del manipolatore è quello di soddisfare i propri bisogni e le proprie necessità nella maggior parte dei casi, per non dire sempre, a spese degli altri, delle sue vittime. È un gioco perverso, senza fine. Infatti il manipolatore o la persona comunque tossica ha bisogno di mantenere alta l'autostima e raggiungere i suoi scopi a qualunque prezzo. Non gli interessa se calpesta qualcuno oppure no. Purtroppo la vittima al più delle volte ha dei suoi bisogni, ha un bisogno di operazione, bisogno di affetto, è un dipendente affettivo, per carità. Però queste persone sono persone subtole. Ma ricordiamoci che il manipolatore può essere chiunque, non si ha manipolazione o violenza psicologica solo nella relazione di coppia. Si ha in qualunque settore della propria vita. Si può avere al lavoro, da un capo, da un collega di lavoro, da un amico, da qualcuno che crediamo sia amico, da un vicino di casa, da un parente, dai genitori o dai fratelli addirittura a volte. Quindi ecco che la violenza psicologica, l'abuso psicologico si può avere su qualunque piano relazionale, non solo tra partner o tra coniugi. Ecco perché è importantissimo capire non solo le dinamiche che ho già spiegato, a livello ovviamente di problemi e di traumi a livello psicologico, ma anche sapere cosa e come la legge può supportarci in questi casi. Quindi in questo video, non voglio dilungarmi tanto io, lascio la parola a Chiara, che è bravissima nella sua capacità espositiva, oltre ad essere un bravissimo avvocato, anche molto brava a esporsi, ecco che vi chiarirà molti, molti dubbi. Quindi lascio la parola a lei, che in caso di necessità non esitate a contattarmi, sotto trovate la mail. A presto, ciao! Salve a tutti, benvenuti in questo spazio di approfondimento dedicato al tema della violenza psicologica. Sono qui oggi in veste di avvocato, in collaborazione con l'associazione Io Scelgo Me, che ringrazio insieme al Presidente Serena Fumaria, il Vicepresidente Walter Giraudo, per avermi dato l'opportunità di questo intervento, finalizzato proprio a illustrare brevemente la rilevanza giuridica e soprattutto penale delle condotte caratterizzate dall'uso di violenza psicologica, con particolare riguardo alle forme di contrasto e di tutela che le istituzioni predispongono in aiuto e a sostegno delle vittime di queste forme di abuso. Cominciamo subito col dire che la violenza psicologica non è disciplinata dal nostro ordinamento come reato a sé, è comunque sanzionata dalla legge, sia penale che civile, in quanto sia idonea a cagionare un danno, cioè una lesione, un pregiudizio, nella sfera emotiva e psichica altrui. Naturalmente la violenza psicologica può estrinsecarsi in una molteplicità di casi e contesti sociali diversi, perciò possiamo parlare di violenza psicologica in relazione a quei comportamenti consistenti in maltrattamenti, manipolazioni, umiliazioni, denigrazioni, attacchi verbali, pedinamenti, appostamenti, fino a poi arrivare alla limitazione della libertà personale e all'isolamento da amici, da familiari e dalle relazioni sociali in generale. La violenza psicologica può inoltre manifestarsi in una molteplicità di contesti sociali, come luoghi di lavoro, di studio e formazione, anche nell'ambito dei social media, nell'ambito delle relazioni familiari, parafamiliari o ai rapporti di relazione in generale. Nonostante si tratti di un fenomeno molto diffuso in costante crescita, quello della violenza psicologica è un fenomeno spesso taciuto dalle stesse vittime. Questo avviene sia per motivi che possono essere interni o soggettivi, perché, ad esempio, determinati dalla difficoltà di denunziare un proprio familiare o magari per il timore di apparire deboli o non perfettamente integrati in un determinato contesto sociale o magari lavorativo. Per altro verso, c'è da dire che si discute poco del fenomeno della violenza psicologica, soprattutto dal punto di vista dei danni che questa può creare nella sfera emotiva e psichica di chi la subisce e di quanto spesso possa poi la violenza psicologica degenerare in forme ben più gravi di violenza, naturalmente con esiti anche fatali per le vittime. Diciamo che la violenza psicologica può naturalmente in alcuni casi e quando possiede determinate caratteristiche può assumere rilevanza penale. è il caso, quindi, delle previsioni normative sancite dall'articolo 572 e 612 bis del codice penale in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori. Per quanto riguarda le condotte che integrano la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, vediamo che la legge, in questo caso, punisce con la reclusione da 3 a 7 anni chiunque maltratta un proprio familiare o convivente, una persona a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, assistenza o solidarietà o anche per l'esercizio di una professione o di un'arte. Vediamo che in questo caso i maltrattamenti punibili ai sensi dell'articolo 572 sono rappresentati da tutti quegli atti o fatti posti in essere in maniera abituale e ripetuta nel tempo che siano idoni a cagionare una lesione non soltanto dell'integrità fisica ma anche unicamente del patrimonio morale del soggetto passivo del reato tali da rendere le situazioni familiari particolarmente dolorose o invivibili ovvero tali da impedire il pieno e soddisfacente sviluppo della personalità come nel caso in cui le violenze siano poste in essere nei confronti del figlio del soggetto attivo del reato. Diciamo inoltre che il reato di maltrattamenti è perseguibile nel caso in cui appunto le condotte di violenza psicologica o anche fisica naturalmente ricordiamo siano poste in essere in maniera abituale e ripetuta nel tempo c'è da dire in proposito che la giurisprudenza non esclude l'abitualità quindi continua a ravvisare la sussistenza del reato anche quando le violenze fisiche o psicologiche siano state intervallate da periodi di apparente normalità e addirittura di apparente accordo con la vittima del reato diciamo inoltre che il reato di maltrattamenti è perseguibile d'ufficio quindi non è necessaria la querela da parte della persona offesa per iscrivere il procedimento penale a carico del soggetto abusante pertanto la notizia di reato può essere ricevuta dalla autorità competente tramite chiunque per quanto riguarda l'altra fattispecie di reato espressamente prevista dal nostro legislatore in tema di violenza psicologica è quella sancita dall'articolo 612 bis del codice penale che riguarda gli atti persecutori il cosiddetto reato di stalking dobbiamo dire che in questo caso la norma punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque pone in essere due o più condotte minacciose o moleste nei confronti di un altro soggetto in maniera abituale e ripetuta nel tempo tali da cagionare un grave perdurante stato d'ansia ovvero da creare il timore per la propria o altrui incolumità ovvero tali da costringere la persona offesa ad alterare le proprie abitudini di vita vediamo che in questo caso è previsto poi un aumento di pena qualora le condotte siano poste in essere nei confronti del coniuge legalmente separato o divorziato con lo stalker ovvero nei confronti di una persona con la quale il persecutore aveva un rapporto diciamo di relazione detto questo diciamo che in questo caso il reato è perseguibile a querela della persona offesa entro 6 mesi dall'ultimo atto di molestia percepito c'è da dire che però la legge in questo caso ammette che finché non sia stata proposta la querela la vittima del reato possa avanzare una richiesta di ammonimento all'autorità di pubblica sicurezza nei confronti del persecutore ricordiamo che l'autorità di pubblica sicurezza è la questura la prefettura o il funzionario di pubblica sicurezza dislocato presso i comuni diciamo che lo strumento dell'ammonimento sicuramente consente una diciamo tutela più rapida di quella che si instaurerebbe a seguito della proposizione della denunzia perché in questo caso il provvedimento di ammonimento può essere adottato senza contraddittorio con lo stalker e quindi a quest'ultimo basterà non reiterare le condotte denunziate per evitare l'instaurazione del procedimento penale viceversa qualora dovesse invece persistere nelle condotte criminose allora il reato diventerebbe perseguibile d'ufficio e quindi non sarebbe neanche più necessario che la persona offesa sporga querela per l'iscrizione appunto della notizia di reato a carico del persecutore che in questo caso sarebbe denunziato direttamente dalla dall'autorità appunto di pubblica sicurezza che aveva ricevuto la richiesta di ammonimento diciamo che infine vi è da dire che accanto a queste fattispecie tipicamente previste dal nostro legislatore chiaramente come tramite le norme incriminatrici del codice penale ci sono poi tutta un'altra serie di norme che puniscono sempre di rilevanza penale che puniscono singoli fatti associabili ai fenomeni più ampi del mobbing cioè alle violenze psicologiche poste in essere sui luoghi di lavoro ovvero ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo cioè alla violenza psicologica perpetrata da minorenni nei confronti di altri soggetti minori per cui di volta in volta si potranno ravvisare varie ipotesi di reato come ad esempio la minaccia la violenza privata la diffamazione la diffusione di video o immagini sessualmente esplicite detto questo detto questo diciamo inoltre che accanto alla tutela penale nel momento in cui l'uso della violenza psicologica determina un pregiudizio cioè un danno che può essere morale biologico o materiale o addirittura nei casi più gravi esistenziale naturalmente chi ha subito appunto l'abuso la violenza psicologica può trovare diciamo tutela e quindi il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento per il danno subito anche esclusivamente in sede civile oltre poi ad avere la possibilità qualora la condotta abbia integrato una fattispecie di reato come quella che abbiamo visto può scegliere di costituirsi parte civile nel processo penale e quindi ottenere oltre alla condanna dell'autore delle condotte anche il riconoscimento appunto del diritto al risarcimento del danno da liquidarsi poi in sede civile detto questo quindi dal punto di vista giuridico e normativo vediamo infine quali sono le azioni da intraprendere qualora ci si ritenga vittime di condotte appunto caratterizzate dall'uso di violenza psicologica diciamo innanzitutto che è fondamentale diciamo porre in essere tutte quelle azioni idonee ad interrompere la situazione di abuso e quindi allontanarsene anche chiedendo aiuto a amici familiari conoscenti che possano offrire ospitalità e chiaramente anche un supporto magari emotivo e affettivo chiaramente è sempre utile poi in tutti i casi di violenza fisica o psicologica prendere in considerazione l'opportunità di denunziare l'autore delle condotte violente la denuncia può essere scritta orale sporta direttamente presso le forze dell'ordine cioè carabiniere e la polizia oppure può essere sporta in forma scritta tramite un legale un avvocato attraverso quindi anche l'esposizione dei fatti lesivi subiti delle condotte diciamo subite appunto e indicando anche eventuali persone che possano essere a conoscenza dei fatti perché hanno assistito ad essi personalmente direttamente oppure hanno avuto in altro modo la percezione e chiaramente nella denunzia vanno indicati anche eventualmente va indicato il riferimento a fonti di prova che possano servire a dimostrare in giudizio la consistenza quantitativa e qualitativa delle violenze subite anche tramite la produzione di attestazioni certificazioni mediche e psicologiche dobbiamo inoltre ricordare che su tutto il territorio nazionale per chi fosse vittima di abuso sono dislocati vari centri antiviolenza a cui le vittime possono rivolgersi proprio per chiedere un supporto e anche ospitalità qualora abbiano la necessità di allontanarsi dalla propria sede abituale di residenza e tramite le quali associazioni poi valutare sempre l'opportunità di denunziare gli autori delle condotte violente questo perché i centri antiviolenza forniscono anche un supporto un aiuto psicologico e anche legale alle vittime di abuso in modo da consentirne il pieno recupero psicofisico e anche sociale diciamo poi che va segnalato anche il numero di pubblica utilità 1522 che è gratuito attivo 24 ore su 24 multilingue accessibile dall'intero territorio nazionale e che fornisce appunto un primo aiuto alle vittime di violenze e successivamente anche un supporto integrato in collaborazione con le forze dell'ordine diciamo che chiaramente in tutti i casi qualora ci si rivolga sia ai centri antiviolenza che al numero di pubblica utilità 1522 resta sempre salva la possibilità di denunziare alle autorità appunto i responsabili gli autori delle condotte criminose la denunzia è uno strumento che sicuramente serve anche ad accedere ad un trattamento preferenziale rappresentato dal codice rosso cosiddetto codice rosso che è appunto un trattamento che tende a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale quando la denuncia abbia oggetto reati di maltrattamenti in famiglia o il reato di stalking diciamo che qualora pervengano all'autorità denunzie per reati di questa specie il giudice può anche applicare nei confronti dell'indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa pur potendo mantenere a suo carico l'obbligo di versare un assegno proprio per fornire ai familiari mezzi di sussistenza di cui rimarrebbero privi in seguito all'allontanamento la denuncia naturalmente è anche un dovere civico per evitare ovviamente la cronicizzazione del fenomeno e per sensibilizzare le nostre e le future generazioni a rispetto dei fondamentali valori della dignità e della libertà dell'essere umano io con questo ho concluso ringrazio ancora l'associazione Io scelgo me il presidente Serena Maria il vice presidente Walter Giraudo ringrazio tutti voi per l'attenzione e spero di vedervi presto come